Mondiale dei super piuma versione WBC si contendono il titolo vacante a San Juan di Porto Rico Hector Camacho e Raffaele Limon Limon finito a terra cerca di minimizzare i colpi ricevuti dall'avversario Una serie velocissima di Camacho e l'avversario ancora a terra L'arbitro Steele concede a Limon, forse spremuto, di proseguire il match Poche battute, stavolta Steele si decide ad assegnare la vittoria a Camacho per KO tecnico L'arbitro Steele si decide ad assegnare la vittoria a Camacho e Raffaele Grazie Grazie